Cronica aveva scrinato grandi promesse, ma erano nulla di fronte alle sofferenze del mio popolo. Noi abbiamo eretto il Colosseo, il Palazzo. Eravamo schiavi. Siamo morti soffrendo. Ogni moneta sottratta al tributo di Shao Han era dovuta dal regno esterno al mio popolo. Del resto, nessuno, Anaknada, si è fatto avanti per schierarsi al mio fianco. No, per ogni tesoro conquistato, io ho combattuto da solo. Non cerco alcun sostegno. Se voglio qualcosa, la prendo. Per questo, ora, sono il Khan. Regno occulto. Regno della terra. Regno dell'ordine e del caos. Saranno tutti miei. E li conquisterò con il Mortal Kombat. Virno dell'Omb JejuNo sights Death to filmere i figli alpis. kennenziale. Vedno dell' Bryan. Grazie a tutti.